la propagazione è oltre queste nuvole caro gruppo sugar delta anche se non c'è propagazione con la nostra mente possiamo andare nel profondo universo anche qui c'è la propagazione perché noi del gruppo sugar delta siamo una garanzia iscriviti anche tu al gruppo sugar delta propagazione figa per tutti e ci sono anche i meeting ciao vi aspettiamo numerosi